Musica Salve a tutti gente sono Caso 90 e benvenuti qua su Postal 2 Prima di... cioè appena ho finito di fare il video di prima Ho messo di salvare, ho messo di salvataggio eccetera E questo livello si chiama The Bridge Ora io ho in mente una cosa, magari mi sbaglio Però se non erro, Postal 3 che io avevo provato Iniziava su un ponte con degli zombie E' probabile che questo sia l'ultimo livello e l'ultima parte di Postal 2 E poi si continua in Postal 3 Non lo sappiamo, andiamo avanti Vediamo un po', ha avuto questa illuminazione per un attimo Si chiama The Bridge questa parte Quindi c'è da pensare C'è da pensare che questo sia... Voi ovviamente lo sapete Se avete finito Postal 2 lo sapete Ma io Postal 2 non l'ho finito Meglio non ho finito questa parte Non lo so Quindi... E' probabile che sia come dico io E' probabile che non sia come dico io Andiamo avanti lo stesso A me piace esplorare tutte queste parti Infatti pizza everywhere in terra Che mi mangio anche Oh... Gente morta E' pieno di gente morta Trano i quelli Quelli sono vivi Wey Oddio perché? No lasciateli Scusa per la tua ragazza Lo... Distrutta tipo Scusami Dunque questo è un ponte Tutto distrutta Assomiglia proprio al ponte finale Cioè non al ponte finale Al ponte iniziale Di Postal 3 Non lo so Bisogna vedere Bisogna vedere Però qua ho visto qualcosa altro prima Che è pieno di roba Boh Distruggo tutto E Champ dove? Non c'è Champ come? Champ 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 Wey Champ Vieni com'è Andiamo Su Che carino Guardate Finalmente abbiamo Champ con noi Oddio zombie Tiè Le cazzo è andata la testa Ho sbagliato Dov'è la testa? Oh cac... Sta caendo da qualche parte L'ho sentita qua vicino Ok vedo Vedo un pochettino Oh detective Casu Ogni mistero per caso No l'ho trovata Non è più mistero Fammi salire qua Pof Distingue il falso dal vero Con abilità Merda Casu Solo lui sa Dove andare Solo lui sa Chi cercare Quello l'avevo salvato prima Ma chissene Allora Probabilmente Infatti c'è un cecchino lì su E' il 7 No l'8 Ok Non mi ricordo mai qual è il fucile del cecchino Tizio Devi morire Che cazzo mi sta sparando? Au 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 Non li avevo mica visti No Tiè Scusa un attimo Muori Dove ammazzare il cecchino Scusate eh Che cacchio Boom Ok E' il cecchino andato Champ Vieni con me No Champ Vabbè si è bloccato Posso Posso farlo cambiare Facendo così tipo Champ qui No Niente frega niente Di croccantina Champ Perfetto Vabbè Si va avanti Vediamo chi c'è Sicuramente ha grato qualcosa Di molto lontano E via Nope Nope E' riuscito a tirarla O Ok si era riuscito a tirarla Tiè Preferisco gli zombie Che tanto Basta fargli così e muoiono Ah ok Champ è riuscito a disincastrarsi da lì Tiè ma Vieni qua Champ Qua da zio Si E' il ponte molto simile a quello di posto al treno Continuo a dirlo Ah quassù si poteva No e mo voglio salire però Eh il problema sarà scendere Mi aspetto morte Alla mia Alla mia discesa Da questa zona qua O forse no Vediamo un po' Oh c'è un bel cecchino Tante robe Aerei Ok Zombie 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 Ma non vedo Nessuno da sparare Quindi scendiamo No 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 Non mi so fatto Niente Sono fortissimo Tipo Ok Posso andare avanti Ah c'era il coso lì Che a palle Eh questo però come lo sposto io Ma Sta squirando il cellulare signore Scusi eh Eh da dove devo passare Che so ste robe Prima non c'erano neanche Sbaglio O forse non li ho viste io Molto più probabili Comunque non posso Non posso Forse dall'altra parte Devo scendere Vediamo un po' E ovviamente io mi sono fatto male Per niente Vaffanculo Scali di merda Non funziona Quando vai indietro Cioè se lo faccio così Sì adesso funziona Però se devi scendere Un po' un casino E champ Come sale le scale Scusami eh E infatti ci sono le scale qua Vediamo se faccio così Oh così funziona Buono E il caso scopre Il caso scopre Il caso insegna a voi Ovviamente Perché se lo scopro Voi state guardando Insegno A voi A champ Boh vedrà di passare A qualche parte Penso Sicuramente verrà Teletrasportato Teletrasportato qua Oddio Ok stanno Sparando scariche Di qualcosa Di napalm forse Perché il ponte è ancora intatto Muori Nope Buono Questi io non li avevo visti Prima da lì in alto Merda Mori Uh ho ucciso il cane Roba Mori Roba impossibile Sette stack Tipo Merda Questo qua c'è lanciarazzi Chi è? Mori Mi serve un pochettino di vita Ovviamente Turududum No C'è niente Qua C'è niente Eh qua Au Che cazzo mi ha colpito Tipo colpito al volo Ah ma stanno colpendo gli zombie Mica a me Eh Pof Pof Ok Questi sono andati C'è un pedi Guarda Guarda la sto spegnendo Ecco perché si and- No No Eh muori lì va Ci ho buttato lì in mezzo Che schifo L'importante è andare avanti però E noi stiamo andando avanti Qui Tizia sono sicura che Sono sicuro Non sicura Sono maschio Ricordatevelo Sono sicuro che Che mi avresti attaccato lì Dopo Eh Devo risalire da qua Sì vero E qua Ah no Posso fare il giro volendo Non c'ho sinceramente voglia di salire Quindi sì Fare il giro da qua Vediamo un po' cosa c'è Eh Ovviamente Zombie Tiè Ok Posso evitare di salire Magari c'è anche qualcosa di interessante Provo C'ho voglia Davvero Ma continuo così Questa Questa zona Tiè Tiè Merda Che Chi Che chi Chi è che sta facendo esplodere tutto No Prima qua ho visto Ho visto Della vita Ho visto Dov'è la vita Non vorrei Utilizzare Ecco qua Eccolo qua Buono Meglio di niente Meglio di niente Qui tutti gli zombie stanno morendo Ragazzi Non c'è bisogno di tutto quello che Beh che palle Lo so che mi attacca Ah ecco chi era Il bastardo qua col Minchia Strapieno Di Vita No ok Non è il ponte di postal 3 Mi sembra Mi sembra Visto che Si cominciava su un ponte Ma forse si E noi Arrientro poi Il ponte di postal 3 Non lo so Vediamo un po' dove stiamo andando Forse è meglio Che c'è lì? Ah ma questa è la nostra casa Che succede? No di nuovo Che cacchio è? Che Godzilla sta arrivando È Godzilla gente It's Godzilla Oh merda Che è quella roba Oddio Non gli posso far niente Oh si No Non gli faccio niente Però A quelle teste Si Mi sembra di aver visto Fatemi vedere un attimo Oh merda Sta arrivando Zombie Zambi Boh Ok L'ho ammazzato Quello E sta scendendo ora Ah E ho notato Si È possibile Ah ok È possibile colpirlo Una volta che Che gli distruggete Quelle teste lì Minca Gli sto facendo Un casino di danni L'ho ucciso Ok Ehm Bene Morto piuttosto in fretta Ok Gente abbiamo finito Postal 2 Il boss più Più inutile di sempre È stato facilissimo Da uccidere Però Cazzo abbiamo finito Postal 2 Tutto postal 2 è finito Siamo riusciti a scappare Con Cempa Riprendere La nostra roulotte A fuggire verso l'orizzonte E a distruggere Completamente Paradise City Penso fosse Paradise City Boh Paradise qualcosa E Niente Gente Boh Non lo so Io sono contentissimo In realtà Perché Siamo finalmente riusciti A finire Postal 2 Ce l'abbiamo fatta Non c'è neanche una musichetta Di sottofondo niente Proprio E Niente gente Spero vi sia piaciuto il tutto A me si Io sono contento Sia di aver finito Postal 2 E Nel senso Sia di aver finito La serie Che Di aver finito Un gioco come Postal 2 Mi è piaciuto Particolarmente Spero vi sia piaciuto Il tutto Ci si vede presto Qua di nuovo Su un'altra puntata Ma stavolta Stavolta Cari miei Non Su Postal 2 Sapete cosa tutto fare Mettete mi piace Condividete la serie Se vi è piaciuta Particolarmente anche a voi Ci sono anche tantissime altre serie Che ho fatto Che mi sono piaciute quanto questa Come per esempio The Darkness 2 O Remember Me Tutti i giochini che Non si è cagato praticamente nessuno Ma che in realtà sono Micidiali Vi metterò probabilmente Un Qualche link Qua sul video Una qualche annotazione Per da poter cliccare E poter andare alle playlist Pre 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 Fatte E niente Gente ci si vediamo alla prossima avventura Sempre qua sul mio canale Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.